Grazie Presidente. Allora, qui ovviamente sentire i consiglieri dell'opposizione che attaccano su tutto, anche quando non ce n'è motivo, detto francamente, è difficile da sopportare. Ci viene contestato che noi siamo in ritardo nell'approvazione di questa delibera quando non c'è assolutamente nessun ritardo, perché stiamo prevedendo quello che ha previsto il governo italiano per tutti i comuni d'Italia, ovvero di approvare questa delibera entro la fine di questo mese. Dunque, quando ci viene detto, dice, ah ma voi eravate quelli che dicevate che approvate le cose in regola, invece guardate adesso, invece adesso stiamo proprio approvando esattamente come dice il governo di approvare questo atto entro la fine di questo mese. Mi preme poter sottolineare un aspetto in particolare rispetto a quegli interventi che hanno sottolineato che non abbiamo abbassato la tariffa alle utenze domestiche, abbiamo abbassato la tariffa esclusivamente alle utenze non domestiche. Allora, in questo caso specifico, noi nei due anni precedenti abbiamo abbassato, benché di poco, comunque la tariffa a tutte le utenze di Roma, sia domestiche che non domestiche. Le famiglie hanno avuto delle riduzioni minime, perché ovviamente le utenze sono tante e dunque una riduzione di poco comunque a tutti va a finire che si risparmiano qualcosa come 6-7 euro a famiglia per quanto riguarda le utenze domestiche. Il punto è che nel corso degli anni la tariffa è stata calibrata un po' sbilanciata nei confronti delle utenze non domestiche. Questo perché in un momento in cui l'economia è andata particolarmente bene hanno preferito caricare più le utenze non domestiche piuttosto che le famiglie. Però sappiamo che nel corso degli anni, purtroppo, negli ultimi anni c'è stata una grandissima crisi economica, per cui questo peso maggiore alle utenze non domestiche, che dovrebbe essere intorno al 53% del totale della tariffa, pagano le utenze non domestiche e il 47% delle famiglie, oggettivamente adesso inizia a pesare tanto e ci stavano chiedendo da tanto tempo di poter rivalutare questa cosa nei loro confronti. Allora la scelta di non far risparmiare le famiglie di 5-6 euro e di invece caricare la riduzione della tariffa sulle utenze non domestiche è un modo per poter ricalibrare un po' questo squilibrio che c'è stato nel corso degli anni. Io credo che, visto che la richiesta era stata fatta con insistenza anche da molte attività commerciali, penso che questa sia una scelta giusta che questa amministrazione sta prendendo e dunque io credo che la polemica su questo aspetto specifico non sia assolutamente in piedi. Grazie.